Sono stati ritratti in bianco e nero nel giorno del loro matrimonio, nel lontano 1935, e oggi li possiamo osservare a colori in un dipinto che riproduce quella stessa posa plastica di 80 anni fa. Lei, regina Maria Sivori, casalinga con sangue piemontese e genovese, immortalata con la sua aria sublime, lui, Mario José Francisco Bergoglio, funzionario delle ferrovie, riprodotto con precisione con quell'atteggiamento bonario che tanto ci ricorda e ci riporta al 13 marzo 2013, quando a Roma fu eletto il 266esimo pontefice della Chiesa Cattolica. Quelli che vediamo infatti sono proprio i genitori di Papa Francesco, che molto ci dicono di sua santità, del suo aspetto fisico, del suo portamento, ma soprattutto dello sguardo e del sorriso che rammentano la madre e dell'espressione che invece sembra essere uguale a quella del padre. Il bellissimo capolavoro che ritrae le due gentili figure appartiene al noto pittore gioiese Mario Romano. Si tratta di un olio su tela di 30 centimetri per 40, offerto nei giorni scorsi al Papa durante l'udienza generale del mercoledì, quando Bergoglio ha ricevuto tra le altre anche le comunità parrocchiali di perito e piano vetrale, guidate dal parroco Don Marco Torraca, di cui è stata l'idea di realizzare il dipinto da donare al pontefice. È un omaggio bellissimo e originale, ha commentato un addetto ai lavori al momento della consegna della tela, avvertiremo immediatamente sua santità. Da ammiratore di questo Papa e in qualità di umile pittore, ha invece riferito Mario Romano, confesso che dedicarmi a quest'opera, che parla delle due persone che hanno portato tra noi un personaggio che ha il mondo nelle mani, mi ha garbatamente emozionato. Ora aspettiamo con gioia la risposta di Papa Francesco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.